Oggi vedremo un brano nel Vangelo di Matteo che ci parla di contaminazione. È una parola che senza dubbio è adatta al momento che stiamo vivendo. Credo che tutti, o quasi, grazie al coronavirus, abbiano scoperto e capito non solo la propria incapacità di controllare gli eventi della propria vita, ma anche il timore di poter essere contaminati da questo virus potenzialmente letale, potenzialmente mortale. Nel 1986 c'è stato il famoso caso di Chernobyl, uno dei più gravi disastri nucleari. Le radiazioni hanno contaminato tutto, anche l'aria. Io mi ricordo che ero piccolo, avevo 12 anni, e si parlava di alimenti contaminati, di acqua contaminata, tanto che si faceva bollire l'acqua per poterla bere. Non so quanto fosse efficace come rimedio, ma si faceva per timore di essere contaminati. Alcuni sinonimi di contaminare sono contagiare, infettare, avvelenare o inquinare. Quindi questo ci fa anche pensare all'inquinamento atmosferico. L'aria che respiriamo è inquinata. L'inquinamento dei mari, degli oceani, dei fiumi, dei laghi, della terra. Ci basta pensare a tutti i pesticidi e anche a tutte le sostanze usate in agricoltura. Insomma, tutto è contaminato. E sono certo che questo è un tema che sta a cuore a molte persone. Ma nel brano di oggi, il Signore Gesù ci mostrerà una contaminazione molto più importante, che ha proporzioni e conseguenze molto più gravi e che affligge tutti gli uomini. Questa è una contaminazione che riguarda tutta l'umanità e quindi dovrebbe preoccupare l'uomo molto più di qualunque altra forma di contaminazione o di inquinamento. Così vi chiedo di alzarvi in piedi e di leggere con me Matteo 15. Matteo 15 al versetto 10 dice Chiamatasse la folla, disse loro Ascoltate e intendete Non quello che entra nella bocca contamina l'uomo ma è quello che esce dalla bocca che contamina l'uomo Allora i suoi discepoli si avvicinarono e gli dissero Sai che i farisei quando hanno udito questo discorso ne sono rimasti scandalizzati? E gli rispose loro Ogni pianta che il Padre mio celeste non ha piantata sarà sradicata Lasciateli Sono ciechi Guide di ciechi Ora se un cieco guida un altro cieco Tutte e due cadranno in un fosso Pietro allora gli disse Spiegaci la parabola E Gesù disse Anche voi siete ancora incapaci di comprendere? Non capite che tutto quello che Entra nella bocca va nel ventre ed è poi espulso nella latrina? Ma ciò che esce dalla bocca viene dal cuore Ed è quello che contamina l'uomo Poiché dal cuore vengono pensieri malvagi Omicidi Adulteri Fornicazioni Furti False testimonianze Diffamazioni Queste sono le cose che contaminano l'uomo Ma il mangiare con le mani non lavate Non contamina l'uomo Potete accomodarvi Nel testo abbiamo visto che Gesù usa la parola contaminazione per cinque volte Quindi questo ci fa capire che era qualcosa che gli stava senza dubbio a cuore Ma per capire meglio perché Gesù usa la parola contaminazione Perché parla di questo argomento Dobbiamo capire meglio il contesto in cui siamo E cosa sta accadendo Gli ultimi versetti del capitolo 14 Ci dicono che Gesù Con i discepoli Attraversando il mar di Galilea Arrivano nella regione di Gennesaret Gennesaret E qui Quel giorno Tutte le persone dei villaggi circostanti Delle città Affluiscono da Gesù Quindi abbiamo migliaia di persone Che erano lì per farsi guarire O per vedere un miracolo da parte di Gesù E in effetti quel giorno ci furono molti miracoli Al punto che bastava toccare la sua veste Ed erano guariti Quindi ci furono molti miracoli Ed è nel mezzo di questo Che arrivano i farisei e gli iscrivi Da Gerusalemme Questi uomini Percorrono circa 130 chilometri 130 chilometri Forse su degli asini E in più giorni Con un unico scopo Quello di screditare Gesù E il suo operato Avevano un unico scopo E dal versetto 1 Del capitolo 15 Leggiamo questo ancora Allora vennero a Gesù da Gerusalemme Dei farisei e degli iscrivi E gli dissero Perché i tuoi discepoli Trasgrediscono le tradizioni degli antichi? Poiché non si lavano le mani Quando prendono cibo? Ma egli rispose loro E voi Perché trasgredite il comandamento di Dio A motivo della vostra tradizione? Dio infatti ha detto Onora tuo padre e tua madre E chi maledice padre o madre Si è punito con la morte Voi invece dite Se uno dice a suo padre o a sua madre Quello con cui potrei assisterti E dato in offerta a Dio Egli non è più obbligato A onorare suo padre e sua madre Così avete annullato la parola di Dio A motivo della vostra tradizione Ipocriti Ben profetizzò A screditare Gesù Agli occhi della gente Così abbiamo lo scontro Tra le autorità religiose Di quel tempo E Gesù E tutto parte da un'unica accusa Quella da parte dei farisei Nei confronti dei discepoli Che secondo loro Prendevano del cibo Senza essersi lavati le mani E questo apparentemente Può sembrare una sciocchezza Ai nostri occhi Ma qui dobbiamo aprire Una parentesi Ai tempi di Gesù Le tradizioni degli antichi Erano superiori Alle scritture Tanto che erano L'unica interpretazione Affidabile Della parola di Dio Proprio come Il cattolicesimo romano Guarda i dogmi Della chiesa Per poter capire E interpretare La parola di Dio Molti giudei Di quel tempo Guardavano Alla tradizione Degli antichi A questo punto La tradizione Aveva soppiantato Le scritture Come autorità suprema Tanto che Le guide E la maggior parte Del popolo Seguiva quelle Addirittura Le tradizioni Affermavano Che le parole Degli scrivi Erano più amabili E preziose Della parola Della legge E si cominciò A considerare Un'offesa più grave La trasgressione Dell'insegnamento Dei rabbini Più accreditati Piuttosto che Trasgredire La parola di Dio Ecco perché I farisei E gli iscrivi Accusarono Gesù E i discepoli Di trasgredire La tradizione Degli antichi I giudei Avevano A tale raccolta Di tradizioni Scritte Aggiunte Alla legge Che neanche loro Riuscivano A osservarle tutte Infatti Gesù parlando Dei farisei E degli iscrivi Al popolo Dice che Legavano Dei fardelli Pesanti E li mettevano Sulle spalle Della gente Ma loro Non li volevano Muovere neppure Con un dito Da nessuna parte Dell'Antico Testamento Si attribuisce Un qualche merito Speciale All'atto Di lavarsi Le mani E qui Non è inteso Come un atto Di igiene Ma era Un rituale Un lavaggio Cerimoniale Che aveva Lo scopo Di rimuovere Ogni possibile Contaminazione Con qualcosa Di impuro Ed era Era così Importante Che un rabbino Affermava Che chiunque Risiedeva in terra D'Israele E mangiava Il suo cibo Con delle mani Lavate Poteva essere Certo di avere La vita eterna Un altro rabbino Fu imprigionato E gli diedero Una piccola Razione d'acqua Che usò Per lavarsi Le mani Prima di mangiare Invece Di usarla Per dissetarsi Dicendo Che preferiva Morire Piuttosto Che trasgredire La tradizione Un giudeo Osservante Doveva praticare Una procedura Di purificazione Delle mani Prima di ogni Pasto E tra Una portata E l'altra Quindi il fatto Che Gesù E i suoi discepoli Non osservavano La tradizione Degli antichi Era per i farisei Qualcosa di assolutamente Oltraggioso Che lo screditava Come maestro Come insegnante Come rabbì Tanto che lo chiamano Che gli attribuiscono Il fatto Che era Dal diavolo Anche il fatto Che invece Di aiutare I genitori In difficoltà Potevano evitarlo Dicendo Quello con cui Potevano assisterli Era dato In offerta a Dio Era solo un modo Per aggirare Il quinto comandamento E poter tenere soldi Per se stessi E per i propri Scopi egoistici Le guide religiose Come la maggior parte Del popolo Avevano ormai Da tempo Sostituito La parola di Dio Con la tradizione Degli antichi E questo è quello Che fanno Tutte le religioni Sostituiscono Dio Con un falso Dio Sostituiscono La sua parola Con la parola Dell'uomo Con delle regole Offrendo così A Dio Una falsa Devozione E una falsa Adorazione A questo punto Israele Aveva sostituito Una vera E intima Conoscenza Di Yahweh Con una Massa impressionante Di regole Su regole Che Dio Non ha mai Dato Ecco perché Gesù cita Isaia 29 E dice Questo popolo Si accosta a me Con la bocca E mi onora Con le labbra Ma il loro cuore È lontano da me In vano Mi rendono il loro culto Insegnando dottrine Che sono precetti D'uomini Gesù non solo Qui sta smascherando L'ipocrisia Dei farisei Davanti al popolo Ma dimostra Che erano loro I veri trasgressori E prendendo spunto Della loro accusa Lui Parla della vera Contaminazione Quella del cuore Ecco perché Ho intitolato Questo sermone Problemi di cuore Questo è il vero Problema Che contamina L'intera umanità Che dovrebbe preoccupare Ogni uomo Sulla faccia Della terra Il testo Mette in luce Tre verità Sul cuore dell'uomo Qui Il cuore dell'uomo È contaminato Versetti 10 e 11 Il cuore dell'uomo È cieco Versetto 12 a 14 Il cuore dell'uomo È corrotto Versetto 15 a 20 E la prima verità E la prima verità È che il cuore dell'uomo È contaminato Il cuore dell'uomo È contaminato Subito dopo lo scontro Con i farisei Gli iscrivi Gesù chiamasse la folla E stiamo parlando Di migliaia di persone Abbiamo detto Che si erano riunite Per Gesù E per i suoi miracoli O per riceverne uno A questo punto Erano lì forse Da più giorni Ed è quello che vediamo Alla fine del capitolo 14 Ed è possibile Che a questo punto Fu anche questo Un atto miracoloso Quello di richiamare a sé La folla Se pensate che Gesù Non aveva questo tipo Di apparecchiature Ma stava richiamando L'attenzione di migliaia Di persone Quindi possiamo pensare Che anche questo Fu un atto miracoloso Un atto dell'autorità divina Di Cristo Dobbiamo ricordarci Infatti che qui a parlare Non era un uomo qualunque Ma il figlio di Dio E quindi Dio stesso Lo stesso Dio Che con la sua autorità E potenza della sua parola Chiamò all'esistenza Tutte le cose Qui allo stesso modo Con la stessa autorità Gesù Chiama a sé la folla E parla loro Chiamata a sé la folla Disse loro Ascoltate E intendete Questa era Un'espressione comune Usata prima Di dire un discorso Molto importante E qui praticamente Gesù voleva Che ciò che stava per dire Restasse nei loro cuori Gesù voleva Che ciò che stava per insegnare Restasse scolpito Nei loro cuori L'intento di Gesù Era che tutti i presenti Dal più piccolo Al più grande Potessero ascoltare E capire Quello che stava Per dire Ascoltate E intendete Non quello che entra Nella bocca Contamina l'uomo Ma è quello che esce Dalla bocca Che contamina L'uomo Ora Cosa sta dicendo Qui Gesù Il principio Non è così difficile Da capire In sostanza Sta dicendo Voi dite che Ciò che mangiamo Senza esserci lavati Le mani Che ci contamina Che ci rende impuri Ma io vi dico Che è ciò che esce Dalla bocca Dell'uomo Che contamina L'uomo La verità che Gesù Sta insegnando È che ciò che Contamina l'uomo Non ha a che fare Con niente di esterno All'uomo Ma con ciò Con ciò che è interno All'uomo I farisei parlavano Di una contaminazione Esterna Lui parla di una Contaminazione Interna Ciò che esce Dall'uomo Rivela la sua Contaminazione Morale E spirituale Nel brano Parallero di Marco Dice così Non c'è nulla Fuori dall'uomo Che entrando in lui Possa contaminarlo Sono le cose Che escono dall'uomo Quelle che lo Contaminano Marco parla Di ciò che esce Dall'uomo Mentre Matteo Parla di ciò che esce Dalla bocca Dell'uomo In parole povere Gesù Dice che nessun cibo Può contaminarvi Ma è quello che esce Dal vostro cuore E che si manifesta Nelle nostre parole Nelle vostre parole E nelle vostre azioni Che vi contamina È quello che sta dicendo Quello che Gesù sta dicendo Non era difficile da capire Era difficile da accettare Il suo insegnamento Mira a colpire Il loro sistema religioso E non solo Quello Ma il loro stile di vita Perché loro vivevano Secondo quelle regole La loro vita Era impregnata Di regole Quindi capite Come il suo insegnamento Non solo Li coglie di sorpresa Ma sta demolendo Tutto ciò In cui credevano Gli sta dicendo Senza mezzi termini La vostra religiosità Fatta di regole Non vi è Ad alcun Aiuto Perché il problema È il vostro cuore Gesù sta affermando Qui la prima verità Sul cuore dell'uomo E cioè che il cuore Dell'uomo È contaminato Tutte quelle persone Compreso i discepoli Fin da piccoli Avevano ricevuto Un insegnamento Fatto di regole Alle quali Erano state aggiunte Altre regole Regole Su regole E Gesù mette Sotto sopra Il loro mondo Capovolge ogni cosa Non era una verità Difficile da capire Era difficile Da digerire Da accettare Per la maggior parte Di loro Anche per i discepoli Che al versetto 15 Gli dicono Spiegaci Questo nuovo insegnamento Spiegacelo Nel libro di Levitico Infatti Noi troviamo Molte regole Su cosa potevano mangiare E cosa non potevano mangiare Su cosa potevano toccare E cosa non potevano Toccare Non potevano toccare La carcassa Di animali morti Altrimenti diventavano impuri Se avevi problemi cutanei Seri Come ad esempio Ad esempio La lebra Eri un uomo impuro E se toccavi Un uomo impuro Diventavi a tua volta Impuro Se c'erano problemi fisici Come perdite anomale Che avevano a che fare Con qualsiasi organo Eri impuro Se toccavi un morto Eri impuro Le donne Dopo la gravidanza Erano impure Durante le mestruazioni Erano impure Eri impuro Se toccavi Molte cose E se mangiavi Molte cose E a tutte queste cose Loro avevano aggiunto Altre regole Avevano una mula Incredibile Di regole Da osservare Per ogni cosa E Gesù Gli sta dicendo Tutte queste cose Non vi aiuteranno Perché il vostro problema È nel vostro cuore La verità Che Gesù Gesù sta insegnando Sul cuore Però In realtà Non avrebbe dovuto suonare Così nuova E così strana Alle loro orecchie Infatti diverse volte Nel Vecchio Testamento Vediamo che i profeti Ricordavano Al popolo di Dio Che lui Desiderava Un cuore Circonciso In sostanza La loro Purezza esteriore Nell'osservare la legge Dove essere La manifestazione Di una loro purezza Interiore Geremia Parlando al popolo Disse questo Circoncidetevi Per il Signore Circoncidete I vostri cuori Uomini di Giuda E abitanti di Gerusalemme Affinché Il mio furore Non scoppi Come un fuoco E non si infiammi Al punto Che nessuno Possa spegnerlo A causa della malvagità Delle vostre Azioni Parlando a Samuele Dio parlo così Di se stesso Il Signore Non bada Ciò che colpisce Lo sguardo Dell'uomo L'uomo Guarda All'apparenza Ma il Signore Guarda Al cuore Anche Paolo Ai Romani Dirà che Giudeo infatti Non è colui Che è tale All'esterno E la circoncisione Non è quella esterna Nella carne Ma Giudeo è colui Che lo è Interiormente E la circoncisione Quella del cuore Dello spirito Non della lettera Di un tale Giudeo La lode Proviene Non dagli uomini Ma da Dio E questo in effetti Succede quando Gesù vede Natanaele Che va contro di lui E dice Ecco un vero israelita In cui non c'è falsità Il Signore In quell'occasione Dimostrò di conoscere Il cuore di Natanaele Così come conosceva Il cuore di Davide Così come conosce Il tuo cuore E il mio cuore Possiamo nascondere Alle persone Ciò che davvero siamo Ciò che c'è Nel nostro cuore Ma non possiamo Nasconderlo a Dio Lui sa Cosa c'è Nel tuo cuore Lui sa Se sei un religioso Come tanti Che guarda All'apparenza Delle cose Alle cose esteriori O se sei una persona Che ha il cuore afflitto E trema la sua parola Lui lo sa questo Tutte le religioni Possiamo dire Che guardano All'esteriore Agli aspetti esterni Come regole E cerimoniali Da seguire Che non possono Però cambiare il cuore Mentre il vero cristianesimo Ha a che fare Con un cuore purificato Lavato E rigenerato Da Dio Possiamo dire Che un cristiano È colui che lo è Nel cuore Un cristiano È colui che ha Cristo nel cuore E agisce Di conseguenza Dio non è interessato A ciò che fai O a quanto sei religioso Non puoi impressionarlo Con queste cose Lui è interessato Al tuo cuore Lui vuole cambiare Il tuo cuore contaminato Il tuo cuore di pietra Con un cuore di carne Che ama Adora E serve lui E soltanto lui Dio è interessato Al tuo cuore E la prima verità Che Gesù mette in luce È che vuole Che l'uomo capisca È che il suo cuore È contaminato La seconda verità È che il cuore Dell'uomo È cieco Marco ci dice Che a un certo punto Gesù e i discepoli Entrarono In casa Quindi è possibile Che quello che vedremo Nei versetti Da 12 a 14 Sia avvenuto In privato Mentre Gesù Parla alla folla I discepoli Devono aver Visto E udito La reazione Dei farisei E infatti Appena restano Soli La prima cosa Che fanno È riferirla Al Signore Gesù Versetto 12 Allora i suoi discepoli Si avvicinarono Gli dissero Sai che i farisei Quando hanno udito Questo discorso Ne sono rimasti Scandalizzati Praticamente Le parole di Gesù Non solo erano Dure da digerire Ma le offese Tanto da suscitare In loro Riprovazione E sdegno Ma perché Rimassero scandalizzati Qui I farisei Marco ci dà Un altro particolare Che Matteo Non ci dà E al versetto 19 Dice che Gesù Così dicendo Dichiarava Puri I cibi Capite? Non solo Gesù Non osservava Le loro tradizioni Non solo Aveva smascherato La loro Ipocrisia Dimostrando che Erano loro I veri Trasgressori Non solo Aveva dato Un duro colpo Al loro Sistema Religioso Fatto di Regole Ma lo stava Riformando Lo stava Riformando Lo stava Cambiando Questo ci dimostra Ancora una volta L'autorità Divina di Cristo Sulla sua stessa Parola Gesù non era Un uomo O un profeta Qualunque Ma il Dio Incarnato Che ha autorità Sulla parola E che vigila Sulla sua parola Per mandarla D'effetto Nessun uomo Aveva Ed ha Una tale Autorità Per questo I farisei In tutto ciò Restano scandalizzati Pieni di sdegno Gesù stava Volendo Tutte le restrizioni Alimentari Sui cibi Puri E impuri Che per loro Erano molto Importanti Abbiamo visto L'autore Agli ebrei Ci spiega meglio Questo Quando scrive Che i doni E i sacrifici Offerti Secondo Quel sistema Non possono Quanto alla coscienza Rendere perfetto Colui che offre Il culto Perché si tratta Solo di cibi Di bevande Di varie abluzioni Insomma Di regole carnali Imposte fino al tempo Di una loro riforma Ma venuto Cristo Sommo sacerdote Dei beni futuri Egli attraverso Un tabernacolo Più grande E più perfetto Non fatto da mano D'uomo Cioè Non di questa creazione E' entrato una volta Per sempre Nel luogo santissimo Non con sangue Di capri e di vitelli Ma con il proprio Sangue Così ci ha acquistato Una redenzione Eterna In poche parole Quel sistema religioso Era solo una figura Sbiadita E passeggera Destinata A passare A passare Ad essere sostituita Con cosa Con i veri beni futuri E celesti E con una redenzione Eterna Acquistata Non con quelle cose Non con quel sistema religioso Non con il tuo sistema religioso Ma con il prezioso Sangue dell'agnello Di Gesù Cristo Gesù con l'autorità Della sua parola Fa crollare Il muro religioso Che i giudei Avevano costruito Nell'arco dei secoli L'insegnamento Del Signore Era così In contrapposizione Con quello In cui credevano Che ne rimasero Scandalizzati E questo ci fa capire Che i loro cuori Erano ciechi E ingannati Tanto da rifiutare La verità Di Cristo E il loro stesso Messia Ecco perché Gesù Li chiama Ipocriti E in altre circostanze Li ha chiamati Razza di vipere O sepolcri Imbiancati Questi uomini Furono scandalizzati Dalla verità E questo ci mostra Un tratto distintivo Dell'ipocrita religioso E rifiuta La verità biblica E rifiuta La verità biblica Il testo Non riporta La reazione Del popolo Della folla Perché si focalizza Sull'ipocrisia Delle guide religiose Ma è possibile Che la maggior parte Di loro Fosse lì Solo per vedere I miracoli di Gesù O per riceverne uno In sostanza Non erano Attratti da Gesù E dal suo insegnamento Ma da ciò Che potevano ricevere Da lui Infatti Gesù Li lascia Ad un certo punto Ed entra in casa Con i discepoli Così abbiamo Delle guide ipocrite E un popolo Ipocrita Forse Contagiato Anche dall'arrivo Dei farisei E degli iscrivi L'ipocrisia religiosa E contagiosa Vi ricordate In Galati Quando Pietro Va ad Antiochia Paolo fu costretto A riprenderlo In quell'occasione Perché Pietro Mostrò La sua ipocrisia E con la sua ipocrisia Contagiò Anche gli altri giudei Credenti E lo stesso Barnaba Che era Compagno di viaggio Di Paolo I credenti Non sono Immuni Dall'ipocrisia Spirituale Quindi Dovremmo chiederci Se stiamo camminando Secondo la verità Del Vangelo O se stiamo camminando Ipocritamente Secondo le nostre regole Secondo alcune tradizioni Che ci sono state insegnate Tradizioni evangeliche Potremmo dire Insegnamenti Che ci portiamo dietro Dalla vecchia religione Dio condanna L'ipocrisia religiosa Quindi noi dovremmo Condannarla Come fece anche Paolo Anche se questo vuol dire Sporci alle critiche Anche se questo vuol dire Scandalizzare Gli ipocriti Spero che qui Non ci sia nessuno Che stia rifiutando La verità Di Gesù Nel proprio cuore E forse oggi Gesù ha umiliato Il tuo cuore E ha smascherato La tua ipocrisia E qual è la tua reazione Davanti alla verità biblica Indurisci il tuo cuore Rifiutandola O gli permetti Di entrare nel tuo cuore Per poterlo cambiare La verità biblica Rompe i cuori Ma Può anche indurirli Ulteriormente Ti scandalizzi Davanti alla verità Sei sdegnato Davanti alla verità Cosa preferisci La religione La tua religione Le tue tradizioni O conoscere la verità Gesù disse Voi conoscerete la verità E la verità Vi farà liberi Rifiutare la verità biblica Vuol dire Porsi sotto il giusto Giudizio Di Dio I farisei Rifiutarono La verità di Cristo E vedremo come Gesù Parla della loro condanna Versetto 13 Egli rispose Ai discepoli Qui Gesù Prende di nuovo La parola Come nel versetto 10 E insegna La seconda verità Sul cuore dell'uomo Egli rispose Ogni pianta Che il padre mio celeste Non ha piantata Sarà sradicata Lasciateli Sono guide cieche Di ciechi Ora se un cieco Guida un altro cieco Tutte e due Cadranno In un fosso L'altra verità Che Gesù Insegna Sul cuore dell'uomo Rispondendo ai discepoli È che il cuore dell'uomo È cieco Il cuore dell'uomo È cieco Sono guide cieche Di ciechi Gesù è rivolto Principalmente ai farisei Abbiamo detto Ma dicendo Sono guide cieche Di ciechi E se un cieco Guida un altro cieco Sta affermando Che anche il cuore Del popolo Era cieco Notate come Gesù Qui Non discolpa In alcun modo Il popolo Che si lasciava sviare Dalle loro guide Dio non accetterà Nessuna scusa Da parte dell'uomo Come Ma io non lo sapevo Ma mi è sempre Stato insegnato così La responsabilità Dell'uomo Qui è evidente Sia per le guide Religiose Che sviavano Il popolo Sia per il popolo Che si lasciava sviare Senza accertarsi Che quella fosse La verità La responsabilità Umana C'è Il cuore Dell'uomo È cieco Spiritualmente E segue Le proprie verità Rifiutando Quelle bibliche E il risultato Sarà che La sua Cecità Lo farà cadere In un fosso Questa espressione Qui Non è solo Un modo per dire Che l'uomo Raccoglierà Le conseguenze E le sue azioni Nella vita Nella sua vita Gesù qua Si riferisce Ai fossi Che venivano scavati Nei pascoli O nei campi E venivano riempiti D'acqua Per poter Abbeverare gli animali Così un cieco Camminando Poteva cadere In questi Fossati In questi Stagni Quello che Gesù Voleva dire È che chi cammina Nelle tenebre Spirituali Alla fine Cadrà Nello stagno Di fuoco D'inferno Ironicamente Gesù Chiama i farisei Guide di ciechi Perché loro stessi Si definivano Guide di ciechi Ma Gesù Sta dicendo loro Sì Voi siete Guide di ciechi Ma i vostri cuori Sono ciechi Quanto i cuori Dei vostri seguaci Anche nel versetto 13 Gesù parla Della loro condanna Quando dice Ogni pianta Che il Padre mio Celeste Non ha piantata Sarà sradicata In altre parole Tutti quelli Che si ergono A guide spirituali E non sono da Dio Che non sono mandati Da Dio Saranno giudicati Sradicati Le guide ipocrite O i falsi insegnanti Saranno sradicati Come un albero Secco E gettato nel fuoco Per essere bruciato Nel fuoco Eterno Io sono la vera vite E il Padre mio Il vignoiolo Ogni tralcio Che in me Non dà frutto Lo toglie Via Se uno Non dimora in me E gettato via Come il tralcio E si secca Questi tralci Si raccolgono Si gettano nel fuoco E si bruciano Le parole del Signore Sono parole di giudizio Verso le guide Spirituali E religiose Di ogni tempo E Gesù dice ai discepoli Di lasciarli Lasciateli Senza dubbio Sta dicendo Tenetevi lontano Da loro E dal loro Insegnamento I credenti Infatti Devono guardarsi Dai falsi insegnanti E non devono cercare Lo scontro Con loro Gesù stesso Non cercava mai Lo scontro Con i farisei Erano i farisei Che andavano da lui E anche in quel caso Lui si limitava A smascherare La loro ipocrisia E a correggere Il loro errore Con la parola Non cercava Lo scontro E allo stesso modo I credenti Non devono cercare Lo scontro Non devono dare ascolto Ai discorsi vuoti E profani E alle obiezioni Di quella che Falsamente si chiama Scienza Evita inoltre Le dispute Stolte Insensate Sapendo che Generano Contese Seconda Timoteo Ma c'è di più Nelle parole di Gesù Quando dice Di lasciarli Questa è l'ennesima Forma di giudizio Che si manifesta Nell'abbandono Di Dio E che vediamo Anche in Romani 1 Da 18 a 32 Dove Paolo Insegna Che Dio Abbandona L'uomo Impenitente Ai suoi propri Peccati Perché possa Raccogliere Le conseguenze Dei suoi peccati E il giudizio Questa è L'ira di Dio Che si manifesta Nell'abbandono Dell'uomo A se stesso Il cuore dell'uomo È cieco E rifiuta La verità Biblica Questa è la seconda Verità La terza verità È che il cuore Dell'uomo È corrotto È corrotto Versetto 15 Pietro allora disse Spiegaci La parabola Marco ci dice Che tutti i discepoli Chiesero spiegazioni Quindi da questo capiamo Che Pietro parlò a nome Di tutti i discepoli E disse Spiegaci la parabola Quale parabola Una parabola Era una verità Sotto forma di storia Era una verità Insimilitudine E spesso Gesù Usava le parabole Per velare la verità Agli increduli Ma poi in privato Le spiegava Ai discepoli Al versetto 10 Gesù chiama La folla a sé Dice Ascoltate E intendete Il suo scopo Non era certo Quello di velare La verità Ma che la capissero tutti Anche i farisei Capirono La verità Che insegnò Gesù Quel giorno Perché ne restarono Scandalizzati Quello che Gesù Insegnò Era così duro Da accettare Per un giudeo Che anche i discepoli Faticarono Ad accettarla Quella verità Al punto Che pensarono Fosse una parabola E come sempre Gli chiesero Di spiegargliela Anche anni dopo Pietro era Riluttante Nell'accettare Questa verità Infatti In atti 10 Pietro era in preghiera Ed ebbe Una visione Vide questa Gran tovaglia Calata dal cielo Per i quattro angoli E dentro C'erano animali Di ogni tipo Puri E impuri E al comando Di ammazzare E mangiare Pietro rispose No Assolutamente Signore Perché io Non ho mai Mangiato Nulla di impuro E di contaminato E la voce E la voce Parla una seconda volta Le cose Che Dio ha purificate Non farle Tu Impure Questo avvenne Per tre volte Quindi Ancora 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 Non siete capaci Di capire Quello Che vi sto Insegnando Ancora Siete resti Ancora Ragionate Con il senso Le cose Degli uomini Anziché Delle cose A fede E dal collo Duro Infatti Nel capitolo Successivo Gesù Dice loro Di guardarsi Dal lievito Dei farisei E anche lì Non capiscono Che devono guardarsi Dall'insegnamento Dei farisei E li ammonisci Di nuovo Con le stesse parole Non capite Ancora Nel capitolo Dopo Non capite Ancora Che il vostro Cuore è Corrotto Dal peccato Che il cuore Dell'uomo È malvagio E quindi I vostri sentimenti Sono corrotti I vostri desideri Sono corrotti Le vostre Intenzioni Sono corrotte Le vostre azioni Sono corrotte Versetto 17 Non capite Ancora Che tutto quello Che entra Nella bocca Va nel ventre Ed è poi Espulso Nella latrina Ma ciò Che esce Dalla bocca Viene dal cuore Ed è quello Che contamina L'uomo Gesù Spiega La verità Sul cuore Dell'uomo Ai discepoli Ed è una verità Semplice Semplice Da capire Nulla di esterno All'uomo Può contaminarlo Nessun cibo Può contaminare Il cuore Perché va nel ventre E poi viene espulso È molto semplice Il problema Dell'uomo È ciò Che si trova Nel suo cuore Qui Gesù Non sta parlando Del cuore organo Ovviamente Ma dell'uomo Interiore Dove risiedono I suoi desideri I suoi sentimenti E la sua volontà La contaminazione Di cui parla Gesù Riguarda la corruzione Morale Dell'uomo Che corrompe La coscienza E l'anima Dell'uomo E questo tipo Di contaminazione Richiede un sacrificio E una purificazione Che non ha nulla A che vedere Con un semplice Lavaggio di mani O con un qualunque Cerimoniale Il profeta Geremia 600 anni prima Aveva già messo in luce Questa verità Dicendo che Il cuore È ingannevole Più di ogni altra cosa È insanabilmente Maligno La corruzione Dell'uomo È una verità Vecchia Quanto il mondo Genesi 6 Dice Dio guardò la terra Ed ecco Era corrotta Pochè tutti Erano diventati Corrotti Sulla terra Parlando di Israele Nel suo cantico Mosè scrive Hanno agito perversamente Contro di lui Non sono suoi figli Questi corrotti Razza storta E perversa Parla di Israele Qua Gli amici di Giobbe Lo accusarono Ingiustamente Usando questa verità Contro di lui Dicendo Tu sei un peccatore Ed è per questo Che raccogli Tutto quello Che ti è successo Quest'essere Abominevole E corrotto L'uomo Che tracane Iniquità Come acqua Usano questa verità Per accusarlo Salmo 53 Tutti si sono sviati Tutti sono corrotti Non c'è nessuno Che faccia il bene Neppure uno E Paolo Riprenderà queste parole In Romani 3 Per poi parlare Al versetto 23 E dire Che tutti gli uomini Hanno peccato E sono privi Della gloria Di Dio Gesù più volte Defini I farisei I farisei malvagi Razza di vipere Come potete dire Cose buone Essendo malvagi Poiché dall'abbondanza Del cuore La bocca Parla Non solo Ma rivolgendosi Alle foglie A discepoli Nel sermone Sul monte E disse Se dunque voi Che siete malvagi Sapete dare Buoni doni Ai vostri figli Quanto più Il padre vostro Che nei cieli Darà cose buone A quelli Che gliele domandano Al capitolo 17 Quando Gesù Scende dal monte Dopo la trasfigurazione Un uomo Va verso di lui Perché aveva Un figlio epilettico Che i discepoli Non erano stati Capaci di guarire E proprio Rivolgendosi Ai discepoli Dice queste parole O generazione Incredula E perversa Fino a quando Sarò con voi Fino a quando Vi sopporterò Paolo La chiesa di Filippi Scrive Fate ogni cosa Senza mormorì E senza dispute Perché siate Irreprensibili E integri Figli di Dio Senza abiasimo In mezzo a una generazione Storta E perversa Ai Galati Grazie a voi E pace da Dio Nostro padre E dal Signore Gesù Cristo Che ha dato Se stesso Per i nostri Peccati Per sottrarci Al presente Secolo Malvagio Tutta la Bibbia Parla Della dottrina Della depravazione Umana Tutta la Bibbia E ne parla Gesù Soprattutto Ma tornando Al nostro testo Gesù evidenza Nel dettaglio Ciò che c'è Nel cuore Dell'uomo E dice Poiché dal cuore Vengono pensieri Cattivi O malvagi Omicidi Adulteri Fornicazioni Furti False testimonianze Queste sono le cose Che contaminano L'uomo Ma il mangiare Con le mani Non lavate Non contamina L'uomo Matteo riporta Una lista Abbreviata Se la comprendiamo Quella di Marco La lista di Marco È più lunga E aggiunge Cupidige Malvagità Frode Lascivia Sguardo maligno Superbia Stoltezza E la cosa interessante È che Entrambi Le liste Iniziano Con pensieri Malvagio Pensieri Cattivi Vi risparmio La descrizione Di ogni singolo Peccato La voglio risparmiare Davvero Io personalmente Nella mia vita Credo di aver Depennato Ogni peccato Nella lista Non so voi Nel sermone Sul monte Gesù spiega Che Il peccato Nasce proprio Nei nostri cuori Nei nostri pensieri E li commettiamo Anche nei nostri cuori Nella volontà Di compierli Tutti i peccati Elencati da Gesù Vengono concepiti E commessi Nel cuore Dell'uomo Ancora prima Che si trasformino In azione Quando deseriamo Le cose A degli altri Quando desideriamo Le donne Degli altri Gli uomini Degli altri Quando desideriamo Il male Di qualcuno O addirittura La morte Di qualcuno La Bibbia Dice che noi Siamo capaci Di uccidere Anche con le parole Quando desideriamo Il peccato Il peccato parte Qui E qui Gesù dice Che anche le parole O le offese Alle quali diamo Un valore insignificante Portano con sé Il pieno Giudizio Di Dio Il pieno potenziale Del giudizio Di Dio Ha mai avuto Un pensiero Cattivo Su qualcuno O hai mai guardato In malo modo Qualcuno Io sì Io l'ho fatto Le cose Che contaminano L'uomo Vengono da un cuore Non lavato Non da mani Non lavate La vera contaminazione Dovrebbe preoccupare L'uomo Non è quella esterna Ma è quella interna Il vero problema È il cuore Così abbiamo visto Tre verità Sul cuore dell'uomo E il cuore dell'uomo È contaminato È cieco Ed è corrotto Ma rimane Una domanda Insoluta Chi può davvero Purificare i nostri cuori Dal peccato Se la religione Non può aiutarci Nella narrazione Di Matteo Come in quella di Marco Mi stupisce Una cosa E tra migliaia Di persone Che forse Erano lì da giorni Per vedere Gesù E i suoi miracoli Nessuno crede in lui O perlomeno Il testo non ne parla Così come anche Le guide religiose Non credono in lui Ma subito Dopo questi eventi Gesù Parte Per andare nel territorio Di Tiro E Sidone Quindi in un luogo Pagano E qui succede qualcosa Di interessante Qualcosa di singolare Una donna Cananea Una donna Che proveniva Da un popolo Non solo Pagano Non solo Che aveva una religione Diversa Ma da un popolo Che nel vecchio testamento Doveva essere Sterminato Dal popolo di Israele Era una cananea Questa donna Corre da Gesù E la prima cosa Che dice Abbi pietà Di me Abbi pietà Di me Signore Figlio di Davide Mia figlia È gravemente Tormentata Da un demonio Non dice soltanto Guarisci Mia figlia Ti prego Come ha fatto Molto volmente Tutta quella folla Ma la prima cosa Che fa È riconoscere Il suo stato Di peccato Umiliandosi Davanti a Gesù Dicendo Abbi pietà Di me Il suo cuore Era rotto E contrito Abbi pietà Di me La seconda cosa Che fa È riconoscere In Gesù Il Messia Chiamandolo Figlio di Davide E la terza cosa Che fa Questa donna È riconoscere La signoria Di Cristo Chiamandolo Signore Abbi pietà Di me Signore Figlio di Davide Gesù Qui sembra Essere Indifferente A questa donna I discepoli Erano infastiditi Dalla sua presenza Tanto dice Manda la via Ma questa donna Non desiste E si prostra Si prostra Ai piedi di Gesù Umiliandosi Ulteriormente E di nuovo Lo chiama Signore Signore Aiutami Gesù Ancora una volta Mostra Indifferenza Nei suoi confronti E per la terza volta Questa donna Lo chiama Di nuovo Signore E lui dice Non è bene Prendere il pane Dei figli Per buttarlo Ai cagnolini Ma ella disse Sì signore Eppure anche I cagnolini Mangiano Delle briciole Che cadono Dalla tavola Dei loro Padroni Questa donna Riconosce La sua Inadeguatezza Accetta Il paragone E si paragona Ad un cane Si umilia Ulteriormente Davanti a Cristo Il suo cuore Era rotto E desiderava Essere salvata E così Riconosce La sua signoria Che lui Era il messia E riconosce Che Dio Cristo Era l'unico Che poteva aiutarla Abbi pietà Di me Signore Figlio Di Davide Il signore Gesù Non era Indifferente A questa donna Voleva mettere In risalto La sua fede Infatti Le dice Donna Grande È la tua fede Grande È la tua fede Perché Dice Grande È la tua fede Non solo Perché Qui abbiamo Un grande Grande Contrasto Un grande Contrasto Tra questa donna E il popolo Di Israele Questa donna Si umilia Davanti al Signore Israele Non lo fa In questa donna Trova fede In Israele Non la trova Una donna Cananea Che non aveva Nemmeno le scritture Che aveva soltanto Signore Parlare di Gesù Lo riconosce Come messia E come signore E come salvatore Aiutami Abbi pietà Di me Abbiamo un grande Contrasto In questo brano L'unica cosa Che può cambiare I cuori È Cristo L'unico Che può cambiare I cuori È Cristo Lui conosce I cuori Di ogni uomo E ogni donna Sulla faccia Della terra Lui è interessato Al tuo cuore E vuole darti Un cuore di carne Al posto Di un cuore di pietra Signore Noi Ti lo diamo Ti ringraziamo Perché sei un Dio fedele Sei un Dio che ha autorità Tu hai autorità sulle persone Hai autorità sulla tua stessa parola Vigili Sulla tua parola per mandarla ad effetto E noi ti lo diamo per questo Signore Grazie perché Un giorno i nostri cuori erano contriti I nostri cuori erano rotti A causa del peccato Che c'è in essi Ma tu hai avuto E tu hai avuto misericordia Di noi Hai usato pietà Verso di noi Signore Lavando i nostri cuori Con il tuo prezioso sangue E acquistandoci Una redenzione Eterna Grazie Signore Per questo Perché noi non potevamo farlo Potevamo essere anche Migliori religiosi Signore Potevamo Osservare la legge Alla lettera E non ci saremmo riusciti Quindi grazie Signore Per aver dato la tua vita Per noi Nel tuo nome Amen